Pronti per il superattico? Sì! Si vede tutto, anche se il tempo è brutto, da qui, da nessun'altra parte, potrai orbitare su Marte, con me, panoramicissimo. In ambiente esclusivissimo, superiamo l'imbarazzo, ci intonfona nel palazzo. Saliamo all'ultimo piano, entriamo nel mio appartamento. Vediamo qualcosa, a te che cosa piace? Summiamoci in cerchio, il canone per la pace. Gira, gira, gira sul mio terrazzo, dare risposte a domande che non ho fatto. Prendendo il discorso di infine ci concentriamo di perdere tutte le facoltà. Da qui si vede il mare. Sarà come volare e poi, da qui, in ogni momento, potrai sentire il vento, si vuoi. Ristrutturatissimo, complesso e elegantissimo. Resta pure se vuoi, manda un messaggio aperto i tuoi. Saliamo all'ultimo piano, entriamo nel mio appartamento. Vediamo qualcosa, a te che cosa piace? Summiamoci in cerchio, il canone per la pace. Gira, gira, gira sul mio terrazzo, dare risposte a domande che non ho fatto. La metacondizione di infine ci concentriamo. Un giro sulla macchina di tempo. La metacondizione di infine ci concentriamo. Gira, gira, gira sul mio terrazzo, dare risposte a domande che non ho fatto. Tra i tempi e i due discorsi, infine ci concentriamo di perdere tutte le facoltà. Grazie.